Tra le mura amiche della Palaminardi, la Passalacqua Ragusa vola agli ottavi di Eurocup battendo nel girone di ritorno le Polacche del Gidnia. Adesso ad attenderla la temuta squadra spagnola del Girona. Le Biancoverdi superano le Polacche del Gidnia davanti ai propri tifosi entusiasti. La Passalacqua resta imbattuta nella competizione europea, ma soprattutto dimostra di essere in salute visto che ha inanellato la terza vittoria consecutiva nel giro di una settimana. Una dimostrazione di maturità tattica da parte della Passalacqua che presse e va avanti di ben 9 punti nel primo set ma deve subire il ritorno polacco sia nel secondo che nel terzo quarto quando Kopperi ingrana la quarta e trova corrispondenza con il capitano Scherovich e Jankowska. C'è voluta la migliore Passalacqua per arginare la supremazia fisica delle ospiti e l'ultimo quarto è cominciato da una posizione di parità. Embi ha aperto la rincorsa bianco-verde. Formica con un tiro da tre hanno dato vita al vantaggio che le polacche nonostante Kopper non sono riuscite a colmare. Ndura tre minuti dalla sirena ne mette dentro uno da tre e la partita praticamente finisce qui. La Passalacqua resta con le migliori squadre europee ed affronterà nel prossimo turno, andata giovedì 25 gennaio, le catalane del Girona. Bisogna tuttavia pensare subito a battere Vigarano, domenica ancora sul parquet di casa. Grazie a tutti.